Ciao, benvenuti. Ho messo in questa slide alcune delle caratteristiche proprie di questa metodologia e di questa analisi. Sono due punti. Il primo punto si riferisce al fatto che qualunque scienza si trova di fronte a una grande quantità di fenomeni diversi e una scienza formula ipotesi riconducibili a leggi generali che spiegano questa molteplicità di fenomeni particolari. Il secondo punto invece si riferisce, cioè definisce la caratteristica propria che il discorso scientifico deve avere. Deve essere formulato in termini definiti, in modo esplicito e fondarsi su esperimenti ripetibili. Vorrei aggiungere inoltre una cosa che in questo slide non ho scritto, ovvero la linguistica non è una disciplina normativa ma descrittiva, ovvero il suo scopo non è quello di indicare ciò che si deve o meno dire, ma l'obiettivo è spiegare ciò che effettivamente si dice. Ogni lingua presenta delle varietà d'uso, ognuna delle quali ha delle caratteristiche proprie che vanno conosciute bene per poter utilizzare queste varietà nei contesti, nei modi appropriati e adeguati. Sono le caratteristiche principali e proprie del linguaggio umano. Le tre principali sono la doppia articolazione, la ricorsività e la discretezza. Bisogna inoltre ricordare che appunto il linguaggio è discreto e continuo. E altra cosa importantissima che, uscendo un attimo dal discorso, è molto molto richiesta l'esame e è molto importante saper riconoscere anche a livello di esame la differenza tra forno e fonema, di cui parlerò anche più avanti della differenza e vi darò anche delle definizioni. Comunque per il momento è importante ricordare che forno e fonema sono due cose differenti. Nella slide appunto potete vedere che per quanto riguarda la discretezza, ho messo anche una definizione, come anche per la doppia articolazione. Vi ho aggiunto un'anteriore caratteristica del linguaggio, ovvero le forme e l'associazione delle parole sono dipendenti dalla struttura e come possiamo vedere in qualsiasi frase che appunto c'è un soggetto, poi il verbo, poi i vari complementi. Altra cosa fondamentale è la differenza tra linguaggio e lingua. La lingua è una forma specifica che il sistema di comunicazione assume nelle varie comunità, ovvero la lingua italiana, la lingua tedesca, la lingua araba e via dicendo. Il linguaggio invece è una capacità comune a tutti gli esseri umani di sviluppare un sistema di comunicazione con caratteristiche proprie, che appunto ho già descritto, e che lo distinguono da altri sistemi di comunicazione, quale può essere ad esempio il linguaggio animale. Potete vedere che ci sono vari livelli linguistici all'interno appunto di una lingua. Ci sono quelli che ho evidenziato, ovvero fonologia, morfologia, sintassi e semantica. Ovviamente in certi casi ci sono anche alcune sottoclassi, sottogruppi, insomma. La linguistica privilegia la lingua come espressione orale piuttosto che su quella scritta per diversi motivi. Le lingue cambiano nel corso del tempo e cambiano anche molto più velocemente rispetto alla parte scritta dal punto di vista orale. Il cambiamento, cioè avviene prima il cambiamento orale e solo successivamente la cultura, la parte scritta registra questi cambiamenti. Il bambino quando impara una lingua, inoltre, impara prima a parlare e successivamente con le scuole elementari impara a scrivere, impara oltre che a scrivere anche le regole grammaticali di quella determinata lingua. Un ultimo punto, esistono e sono esistite lingue che sono o sono state solo parlate e non scritte e quindi tramandate solo a un livello orale e anche dal punto di vista grammaticale, insomma. In questo slide, nella prossima, potrete vedere che dal punto di vista storico, ci sono tre autori diversi che ne parlano, hanno un livello astratto e un livello concreto per parlare della lingua in questione, che è qualcosa di in comune a tutte le lingue e a tutti gli atti linguistici, che appunto è un atto a sé e irripetibile. Ferdinando de Chassure, per esempio, parla di lingue come qualcosa di sociale, di astratto e come parole per parlare del lato linguistico dal punto di vista individuale e concreto. Jakobson, invece, distingue tra codice e messaggio. Il codice è appunto il livello astratto e il messaggio è quello concreto. Appunto, la seconda parte, come potete vedere ho fatto anche una tabella che riassume tutti e tre gli autori. Come dicevo, appunto, Chassure parla di lingue come livello astratto e parole come livello concreto. Jakobson, livello astratto, codice e invece, come livello concreto, messaggio. Komsky, invece, parla di distinzione tra competenza ed esecuzione. La competenza è il livello astratto e l'esecuzione il livello concreto. Come potete vedere, ora parlo delle competenze linguistiche di un parlante. Esistono quattro tipi di competenze, ma prima di descriverle, come potete vedere, sia in questa che nelle prossime due slide, ho messo una descrizione, una definizione, di cosa voglia dire competenza, ovvero un insieme delle conoscenze linguistiche che un parlante ha. E come dicevo, sono quattro. Le prime due, le vedete qua, sono la competenza fonologica e morfologica. Nelle prossime due slide parlerò della competenza sintattica e della competenza semantica. Come potete vedere, appunto, e come dicevo anche prima, qui c'è la competenza sintattica, che consiste nel valutare, nel guardare a cosa possono fare i parlanti, ovvero, secondo la competenza sintattica, possono formare vari tipi di frase e non hanno nessuna difficoltà a capire e a costruire un certo numero, c'è un numero enorme di frasi, senza magari averle mai sentite prime, senza averle mai sentite appunto prima, e possono essere anche molto lunghe, e si hanno delle intuizioni su quanto queste frasi, queste parole, possono essere o meno grammaticali o non grammaticali. Solo appunto le frasi restrittive possono essere accumulate, ma non quelle relative e non restrittive. Appunto c'è la competenza semantica, che dice che i parlanti di una lingua sanno riconoscere il significato delle parole e delle frasi, e sanno istituire molti tipi di relazioni semantiche tra le parole, come le relazioni di sinonimia, che comunque la sinonimia completa non esiste. Il contrario, invece, quello che noi definiamo le contrarie di un termine, di una parola, è l'antonimia. Anche in questo caso i parlanti hanno intuizioni sul fatto che ci siano o meno somiglianze e differenze tra le parole. L'uva è un codice e in quanto tale è costituito da due livelli principali e fondamentali. Le unità di base e le regole che combinano appunto tali unità. Le lingue non sfruttano mai tutte le possibilità nel livello di unità, nel livello di regole, quindi ogni lingua fa determinati tipi di scelte. Cioè che tutte le possibilità non vengono realizzate, è vero, non solo per quanto riguarda il lessico e i suoni, ma anche per la morfologia e i lessintassi. Nella linguistica moderna il morfema, che è appunto l'unità, è il più piccolo elemento dotato di significato in una parola o in un enunciato. I suoni vengono disposti in una sequenza lineare che viene anche definita catena parlata. In questo senso i suoni si influenzano l'un l'altro rispetto a quando si utilizzano singolarmente. E appunto, come diceva anche Saussur, non sono rapporti di tipo paradigmatico o associativo, ma sono rapporti in absenzia. Ovvero, se realizzo un determinato suono, non posso realizzare in contemporanea anche gli altri. Presente che sincronico non vuol dire presente. Sia la sincronia che la diacronia sono aspetti delle lingue importanti, perché le lingue in quanto sistemi hanno la proprietà sia di funzionare che di cambiare nel tempo. Per notare che ho messo le proprietà delle parole, una parola è appunto un segno che a sua volta è un'unione di significato e significante. Ha appunto diverse proprietà, ovvero distintività, linearità e arbitrarietà. Bisogna ricordare una cosa, appunto il segno è un'unione tra significato e significante. Il significato è appunto quello che quel termine vuol dire. E il significante è la figura che a noi, per esempio, viene in mente quando diciamo un determinato termine. Ad esempio, con la parola libro, il significato è appunto un libro, cioè un oggetto in cui si può aprire, lo puoi leggere o comunque vedere delle figure. E c'è una copertina ed è qualcosa di appunto tangibile. Il significante invece è l'immagine che noi abbiamo del libro.